Aggiornamento costante sulla luce bruciata in camera mia Ho cambiato la lampadina ma evidentemente non funziona Quindi probabilmente è imploso tutto il sistema di illuminazione della mia stanza e del mio ufficio Questa luce molto di qua mi fa sembrare molto in penombra di qua E sembro anche molto abbronzato ma in realtà non lo so, sono una mozzarellina Ad ogni modo ho trovato una mappa sul quale sclerare, non lo so, una mezz'oretta della mia mattina Quindi perché no, proviamola Bene ragazzi, questo è qui e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft sul mio canale Questa mini mappa si chiama Clutch Ci sono delle regole ovviamente a rispettare Non barare, gioca in game mode 2, non rompere i blocchi, grazie Quindi le regole sono abbastanza serie, non c'è scritto niente XD, XD non lo usavo dai tempi di Messenger O poco ci manca E poi c'è un tasto per iniziare Quindi partiamo subito, sono 15 livelli C'è scritto che i primi 10 potenzialmente sono anche troppo semplici E si inizia valissimo Fammi capire come funziona Io devo prendere questo blocco e filarlo là dentro Può essere piazzato sul blocco di diamante Va bene Quindi immagino il blocco di diamante qua davanti Ah, sopra ci devo montare E allora dillo subito, no? Che è così semplice, che io non avevo capito Pensavo ci fosse un meccanismo più complicato Ma evidentemente non sono in grado neanche di saltare due blocchi di ghiaccio in fila Cioè il re del parkour che adesso fa schifo E no davvero Livello 2 Carino come mappa Perché in teoria tu devi saltare e piazzare i blocchi Quindi non è semplicemente parkour Ma è anche reattività alle cose da fare Sì ma tranquilli che si può fare vi ho detto Mannaggia di un pelo non ce l'ho fatta Praticamente salti, piazzi i blocchi E più muovi avanti nel percorso E vai sempre il più possibile verso la fine dell'obiettivo Sembra particolarmente semplice Devo solamente prendere un attimo il rinco Una bella rincorsetta Piazzi il blocco e non te lo piazza giustamente Perché se sei in mezzo alla traiettoria Lui dice Ehi là perché vuoi piazzarti un blocco sul piede quando non puoi farlo Non lo puoi fare e quindi si va avanti Tiè livello 3 Questi sono dei blocchi di slime addirittura Quindi questo sarà ancora più complicato Da ammettere dovremo sfruttare anche il salto in sé per sé Non so se avete capito la difficoltà di questa cosa Devo saltare, piazzare, saltare di nuovo Ripiazzare e risaltare di nuovo Cioè capite Non posso farlo Non è una cosa così semplice Quanti blocchi di slime abbiamo adesso Sì ce l'ho fatta Incredibile Sembrava più difficile Effettivamente all'inizio non riuscivo ad andare avanti In teoria non dobbiamo piazzare un blocco semplice Dobbiamo mettere un blocco di slime qua sotto Rimbalzare e poi piazzare sopra l'altro Come si fa bene in questo modo qua Saltando di sotto Fracassandosi tutte le falangine Falangette Falangiotte Dopodiché devi cercare di non imprecare Perché questo gioco piano piano mi porterà all'esasperazione Livello 4 di 15 Non è così difficile Dai si può fare Vuoi fare il salto della vita Perfetto? No quasi Soltanto io non ho capito se il blocco devo metterlo prima sopra O prima sotto Ma secondo me non fa la differenza Devo essere sincero Dobbiamo iniziare dai blocchi questi qua Normali Però da quello di sotto E non so come fare a prendervelo di sotto Prima di velo di sopra Considerando E saltando lo mette un po' dove vuole lui Bene così Piazza anche il secondo E siamo tranquilli Adesso dovrei saltare E non fare questo Dovrei arrivare al blocco Mettere lo slime Saltarci sopra E raggiungere la fine Quanto tempo staremo qua? Faccio partire un cronometro in questo istante Per vedere quanto tempo staremo bloccati Nel livello 4 Forse meno del previsto Attenzione Stepri potrebbe risolverla In un secondo Cioè mancava davvero poco Avrebbe stato probabilmente il record Che una volta attivato il conto alla rovescia Boom In 3 secondi In 4 e 4 8 Come volete dire voi Finiva tutto Io devo saltare Mettere il blocco Prendere lo slancio E risaltare di nuovo Per quanto i creatori del gioco Te la spaccino per semplice Tipo Sì Prima i 10 livelli Sono una passeggiata Ci riusciresti ad occhi chiusi No un bel corno Cioè occhi chiusi Un bel niente Come vedete qua Anche se avevo preso la mano all'inizio Adesso è difficile Da piazzare il blocco Cosa succede? Prego aiutami Non così Sempre più complicata la situazione Vedo Però non impossibile Non Impossibile Affangala Che sono un pazzo fuori legge Che poi si mangia anche il grege Se non mi piace Sto blocco Io ogni tanto poi sbrocco Perché ero solo un bambino Che voleva fare il parkurino E non ci arriva Devo finire sta mappa Assolutamente Adesso E non puoi Non saltarmici Accidenti A te Io sono abbastanza sicuro Che la procedura comunque sia questa qua Che il blocco di slime Debba essere messo qua Dopo il salto sotto ai piedi Prendere lo slancio E portarsi a casa La missione Non sono pazzo E so che si fa così E che si farà così In qualche modo E dai Ebbiani mi incontro Non mi vuole aiutare È incredibile Ora non riesco manco A raggiungere più Il blocchettino di base Avete visto Ho fatto bene A mettere il timer Probabilmente voi il timer Non lo avete visto Vedete solamente Il risultato finale Ma non importa Non importa Non me lo piazza Perché mettete Fra le regole Il non barare Quando ogni tanto Il barare È così liberatorio E ti fa andare avanti Ti fa avere una speranza 3 2 1 Via Eccolo No Non me l'ha messo C'eravamo praticamente Riusciti Qui devi fare un colpo di reni Praticamente girarti Piazzare il blocco sotto Grande Stessa cosa Fatta qua Soltanto E ci devi anche saltare sopra 3 minuti e 50 Voi probabilmente Avete visto 4 o 5 tagli Sarà stato tutto sereno Qualche schierata in qua e là Ma tutte le cose Nel mezzo No non è vero Non mi puoi fare questo Fai il bravo Per piacere Guarda che non lo mette Io ho cliccato Ve lo giuro Non è possibile però Che cavolo Dai Ma i prendi per il culo 8 minuti In questo cavolo di livello Che nervoso Che mi sta venendo Ma si va tanto Io ho tutta la mattina Non devo uscire di casa Tra tipo un'ora e mezza Dai Ti prego Fai il bravo Per una cavolo di volta Oh Si 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 Grazie Signor Ce l'abbiamo fatta Non so neanche io come Vi dico Proprio la verità Adesso Vediamo un po' Di cosa si tratta La sfida di oggi Dobbiamo salire qua su in cima Il più possibile Piazzare lo slime block Prendere lo slancio Prendere lo slime block Prendere lo slancio Ci provo eh Non garantisco niente Infatti non ci sono Riuscito Però qua non dobbiamo neanche Riattivare il checkpoint Fortunatamente Perché in teoria Basta fare una cosa Del Non lo piazza questo Non lo piazza Perché non lo piazza Solo nel blocco di smeraldo Può essere Eh Che significa Adesso può essere Piazzare Avete visto Io non sono pazzo Ragazzi Questi vogliono farmi Sembrare pazzo Ma io non lo sono Non del tutto Per lo meno Guarda Ora mi fa così Se io cado Di sotto Qua sopra C'è lo slime block C'è lo slime block Io dovrei arrivare Lassù in cima Hanno preso bene Le misure Giusto 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 No Giusto Un cazzus Facciamo che il blocco Lo mettiamo dopo Va Che fidarsi è bene Non fidarsi è meglio Appena arrivi qua davanti Piazzi 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 E non serve a niente Io ripristino il timer Da zero E a fare il livello di prima Ci abbiamo messo circa 10 minuti Non male Per un livello Cioè sono 15 Boom 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 E mo Che faccio adesso L'unica cosa Mi può venire in mente È di poterci saltare Da qua su in cima In questo modo Qua Bravo step Che hai ragionato Vedi che far sfruttare Per bene le rotelline All'interno del cervello Qualcosa serve Voi non ci credete Ma vi ho detto Che mi prende per il culo Quando parte il livello Non mi dà mai materiali Per finirlo Mi dà i materiali sbagliati Salto lungo Piazzo il blocco Cado di sotto Mi spacco in piede Possiamo passare da sopra Effettivamente Non ci avevo pensato È la mossa vincente La mossa mi permetterà Di portarmi a casa Anche il livello 6 Incredibile Che vai vai Fammi pure ripartire da sopra Questo mi spinge di sotto Adesso Che gentile Come dovrei fare Quindi Come caspita Si fa qua Devo nascere e saltare Non si può nascere e saltare Vedi È una presa in giro Perché poi mi spinge di sotto È buggata Non so se vi rendete conto Ma mi puscia di sotto Cioè io non posso fare niente Neanche saltare Appena arrivato sopra il livello Vedete Va bene Adesso mi sento Nel punto giusto Al momento sbagliato Cioè non sono pazzo Cioè non completamente Perlomeno Mi butta di sotto Ho già capito Che in questo livello Impazziremo Completamente Anche perché Mi mette i blocchi C'ero riuscito Sono un coglione Devo fare un casino Per provare a scuola Questo livello Che voi non avete Neanche un'idea Bella lì Allora adesso Dovrebbe essere semplice Questi sono semplicemente Al giro Giri e salti E metti il blocco Questo per esempio È già più complicato Ma si può fare E Stepney ce la fa Ovviamente Livello 8 Portato a casa Let's try some hard level Che scusami Fino adesso cos'era Non erano livelli difficili Che disagio Che disagio Cioè per quale motivo Mi fai fare questa cosa It's possible Beh ci credo It's possible Però così no Vi giuro che arrivo A livello 10 E poi mi fermo Tanto se hanno detto Gli ultimi 5 Sono praticamente impossibili Li faremo un altro giorno O non li faremo E basta Molto semplicemente Ora vuoi mettermi questo Per piacere Non mi dire è possibile Se poi non lo fai Eh E che cavolo Sal in cima La colline Piazza al blocco Grazie It's possible Ma it's possible Cosa Cosa Come Cosa e come Contemporaneamente Nella loro mente It's possible Ma nella possibilities It's not possible Sto per arrivare A un esarimento nervoso E alle 9.40 Del mattino Di lunedì Uno non vorrebbe questo Anzi vorrebbe Completamente qualcos'altro Mi spiegate Come faccio io A mettere il blocco dietro Praticamente Impossibile Non so se avete capito Io dovrei saltare Dietro Mettere un blocco Saltarci sopra Mettere un blocco E arrivare là Si era buggato Tutto quanto ragazzi Non so Non ho più pari di idea Io avrei dovuto Completare il livello Numero 8 Ma siamo ancora A livello numero 8 Quindi lo stiamo rifacendo Non so il motivo Va bene così Cosa ci fa quel blocco Là sotto Cioè capite che non ha senso Di esistere Quel blocco Questo qui non ci deve essere Deve sparire appena io clicco qua Beh adesso sicuramente La situazione però è più semplice Con quei blocchi nel mezzo Che non dovrebbero esserci Ora faccio vedere io Vuoi mettermi Per il piacere Solamente questo Solo quello Devi mettere Cavolo Finisco questo e basta Veramente non ce la faccio più Mi è venuto mal di testa Dai 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 Mettilo E prendilo E mettilo E mettilo E mettilo Ci siamo Ci siamo Non ci siamo Per piacere Per piacere Per piacere Grazie mille Ora bariamo Non me ne frega niente Tanto da qua posso fare anche così Va a fangala Quello glielo piazzi lì sotto Me ne avanza pure uno Livello 8 Completa Ragazzi È buggato Ci dispiace Cari amici Io non posso perdere Tutta la mia poca sanità mentale Per completare questo livello Che evidentemente Sembra incompletabile Perché anche quando Completi il livello Lui dice No Se devi arrivare 8 Di nuovo Non è possibile Ma tutto buggato Se avete vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate Condividete Non vedrete mai Gli altri 6 livelli Perché non li carica Spollisciate In questa seconda fase Che il canale Che vi ho avuto I prossimi video Grazie per tutto Poi mi devo ricordare Di accendere L'aria condizionata Che questa camera È un forno E non si respira Aiutatemi Che questa camera